Sabato 11 aprile alle 18.30 presso il circolo Città di Fano Accademia degli Scomposti sarà presentata una serata in onore di un giovanissimo regista di San Costanzo Nicola Sorcinelli, reduce dalla produzione del suo ultimo cortometraggio che ha girato fra le terre della Gola del Furlo di Ascoli Piceno e dell'entroterra di San Costanzo. Che cosa spiegherà? Illustrerà questo film in una chiave un po' particolare? Sì, il titolo della serata è La regia dell'anima vorremmo trovare e scavare insieme a Luca Caprara che è come esperto cinematografico gli aspetti, le anime di questo giovanissimo regista. È un incontro aperto alla cittadinanza? Sì, è aperto alla cittadinanza e speriamo importanti presenze perché siano importanti per valorizzare i giovani talenti del nostro territorio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.